Buongiorno a tutti, oggi parliamo delle attività GIS e telerilevamento svolte dalla Fondazione MAC di San Michele all'Adige. Qui si utilizzano dati liberi, ad esempio provenienti dal satellite o dall'Agenzia Spaziale della NASA per costruire, per realizzare dei software, dei modelli, quindi mappe e grafici utili poi ai ricercatori per capire ad esempio come cambia la biodiversità, com'è la distribuzione potenziale di certi parassiti e fornire dati utili ad esempio ai viticoltori. Vediamo come. Parliamo di attività che hanno rilevanza a livello mondiale, i dati infatti si riferiscono non a territori specifici ma a interi stati e continenti. Siamo in compagnia del coordinatore della piattaforma GIS e telerilevamento, Marcus Netteler. Che tipo di dati e sistemi informativi geografici lavorate, Marcus? Noi ci occupiamo dello sviluppo di procedure di analisi di dati territoriali a varia scala spaziale e temporale. Tra le attività principali della piattaforma figurano lo studio della distribuzione di malattie emergenti e i loro vettori, ecologia spaziale e la caratterizzazione del territorio viticolo. Per fare queste mappe, questi grafici, voi utilizzate dati molto preziosi che sono quelli satellitari della NASA. Giusto. Noi utilizziamo un enorme dataset acquisito da due satelliti della NASA che osservano in qualsiasi punto della Terra quattro volte al giorno, ad un orario fisso. Questi satelliti sono in grado di rilevare diversi aspetti della superficie terrestre, incluso lo stato fenologico della vegetazione, la presenza o meno di neve e la temperatura della superficie. Parliamo ora degli aspetti applicativi. A che cosa servono queste mappe e questi modelli che create? I nostri modelli e mappe hanno due utilizzi principali. Il primo è quello a scopo scientifico, a supporto dell'attività dei ricercatori nello studio delle risorse ambientali, della biodiversità e del cor salute. L'altro scopo riguarda gli amministratori, per esempio provinciali, comuni, eccetera, per una gestione efficiente e integrata delle risorse ambientali ed enti terzi a cui forniamo dei prodotti definiti in convenzioni. Vediamo ora come queste mappe possono essere utili ai viticoltori. Ora parliamo del progetto europeo Ynet e del portale WebGIS che consente di caratterizzare dal punto di vista viticolo un territorio e fornire al viticoltore informazioni utili per gestire il proprio vigneto. Ne parliamo con Roberto Zorer, ricercatore che si occupa di sistemi informativi geografici applicati alla viticoltura. Come funziona dunque questo portale? Allora, nell'ambito del progetto Ynet abbiamo allestito un portale internet e un portale cartografico utilizzando esclusivamente software libero e dati liberi e abbiamo cercato di allestire dei servizi che possono essere di supporto alla scelta delle varietà in caso di allestimento di un nuovo vigneto o di reimpianto. Indicazioni quindi utili per la scelta varietale. In che modo il viticoltore può accedere a questi dati? Allora, l'accesso è su internet sia tramite computer oppure utilizzando dei dispositivi mobili come i tablet oppure palmari. Non serve alcuna autenticazione, il portale è di libero accesso e una volta attivata la pagina WebGIS è possibile caricare dei tematismi che sono stati ottenuti con dati liberi. Questi dati sono disponibili per tutto il mondo quindi con lo stesso approccio noi potremmo fornire il supporto alla scelta varietale per tutte le aree del mondo. Quali informazioni il viticoltore può ricavare selezionando con il mouse un territorio specifico? Allora, le informazioni sono di carattere topografico e bioclimatico, ossia delle informazioni come la quota, la pendenza, l'esposizione, le ore di luce ma anche i valori degli indici bioclimatici di interesse viticolo. A ciascun intervallo di valori degli indici bioclimatici è poi possibile associare delle varietà che a livello internazionale sono allevate. E quali sono le zone interessate da questo progetto e da questi dati? Allora, il progetto Wynet comprende alcune province della Romagna, del Veneto, il Friuli Venezia Giulia e alcune regioni della Slovenia. I dati però sono di per sé disponibili a livello globale. Per il Trentino possiamo dire che stiamo sviluppando un sistema simile ma molto più accurato nell'ambito di un progetto assieme a Cavit. E concludiamo con il ricercatore Duccio Rocchini premiato da un'importante rivista di ecologia informatica. Di che cosa si tratta Duccio? Sì, la rivista è Computers and Geosciences ed è la rivista dell'International Association of Mathematical Geosciences. Ci siamo occupati, come si vede da questa lavagna, di tutti i modelli che servono per la classificazione delle immagini satellitari insieme a ricercatori che vengono da sei paesi diversi. e sulla base degli studi che abbiamo fatto abbiamo proposto vari approcci per la misura dell'errore nelle mappe e nella classificazione. In questa ricerca hai presentato una serie di applicazioni GIS ai territori agricoli e ai parchi naturali del Trentino in particolare. Sì, nella mappatura dei territori agricoli spesso ci si trova di fronte a dover visualizzare l'errore che è associato alle mappe. In questa ricerca abbiamo cercato di proporre vari approcci per la visualizzazione di questo errore. Ringrazio i ricercatori della piattaforma GIS. Maggiori informazioni su questa attività le trovate sul sito fmac.it. Da San Michele è tutto, l'appuntamento con la Fondazione MAC torna alla prossima settimana. Arrivederci.